presentati e presenta le tue compagne ciao sono Pia Leonetti e le mie compagne sono Elena Tonetta e Guendalina Sartori ciao a tutti sono Guendalina e le mie compagne sono Elena Tonetta e Pia Leonetti ciao sono Elena Tonetta sono classe 88 sto per compiere 25 anni Guendalina ha la mia età Pia un anno in più se ti dico aeronautica cosa rispondi ti rispondo che è una grande famiglia siamo stati accolti molto bene ci curano molto e ci danno la possibilità di fare i professionisti è il corpo migliore in cui potevamo capire cosa rispondo un grande impegno una grande soddisfazione aver lavorato per poter essere all'interno di quel gruppo aeronautica beh ci ha dato un grosso sostegno e continua a darcelo è uno splendido gruppo e abbiamo conosciuto anche altri atleti di altissimo livello punti di forza e di debolezza del centro tecnico federale di cantalupa beh i punti di forza ci permettono di allenarci tutti insieme che è una grande cosa in modo tale che hai la possibilità di allenarti con i tuoi compagni che sono di alto livello piuttosto che stare da soli al campo con compagni di squadra di club che non sono dello stesso livello insomma per potersi evolvere e benestare con chi è più bravo di te i punti deboli ce ne sarebbe qualcuno non so magari i tempi qualcosa sulla logistica magari avremo bisogno di attrezzature in più insomma un po di cosette così niente di grave insomma allora i punti di forza sono la possibilità di avere una struttura anche d'inverno dove si può tirare fino ai 70 metri una struttura secondo me studiata anche abbastanza giusta per noi per le nostre esigenze punti deboli insomma è un po fuori da qualsiasi cosa un po fuori dal centro insomma un po distante da qualsiasi cosa siamo un bel gruppo è bello venire qua allenarsi tutti assieme punti di debolezza bisogna comunque cercare di venirsi incontro quali sono i tuoi punti di forza rispetto alle tue compagne di squadra ma un punto di forza può essere quello che non mi arrendo mai anche quando le cose non vanno bene mi incaponisco perché poi vadano per il verso giusto magari tecnicamente il mio sinistro è abbastanza invidiabile direi basta questo non ve lo dico penso di avere un grande talento e mi piace gareggiare soprattutto con la squadra per poter vincere insieme alle altre e portare a casa delle medaglie importanti quali sono i punti di forza delle tue compagne ma guendalina un bel tiro bello esplosivo ed è sempre positiva e anche elena è molto capatosta come si direbbe in puglia non si arrende mai quindi non è un'avversaria facilmente abbattibile e anche lei è una bella tecnica bella pulita fluida allora io vedo elena molto determinata soprattutto ultimamente a ritornare ai suoi livelli pia è sempre agguerrita è proprio un piccolo leoncino pia sicuramente una ragazza molto caparbia una bella testa e quando vuole mettercela tutta è tenace guendalina è un po più giovane comunque anche lei è molto determinata gli manca un po di esperienza però sta facendo grandi cose qual è il tuo hobby preferito io amo molto la fotografia quindi quando un po di tempo mi piace andare un po in giro per il quartiere fare fotografie più che altro naturalistiche oppure amo molto leggere mi piace molto il cinema insomma cose normali niente di di ultra andare al mare se può essere considerato uno shopping il lobby preferito delle tue compagne questo è difficile non non saprei precisamente penso che piaccia leggere molto anche a elena e lena è molto modaiola quindi penso che sia lo shopping il suo hobby preferito guendalina si piace fare shopping però non è maniaca dello shopping legge ma non è una di quelle che leggono tanto come per esempio natalia o qualcun altro non saprei so che gli piacciono molto i motori le motociclette allora a pia piace tantissimo leggere Elena lo shopping sicuramente a pia piace leggere guendalina dicci qual è il tuo soprannome a caffone la cafona in dialetto barlettano guendalina guendalina alena la tonna che è un suo cognome un po stilizzato diciamo così Allora, di Pia, Pius, Small Lion, di Elena, Tonna, o John. Guenda, Lunette, Acafon. Qual è il soprannome più simpatico del gruppo azzurro? Ma io penso che i soprannomi più forti siano proprio i nostri, quelli delle donne, perché cambiano anche molto spesso. Tipo, io oltre ad essere Acafon, Lionetti, Small Lion, o cose così, insomma, un po' folcloristiche. Quello di Saravioli, la chiamiamo Ravioli. Beh, ne abbiamo tanti, forse Dingom, Mandingom, Massimiliano Mandia. Convinci qualcuno a tirare con l'arco. Non sai che ti perdi. Mauro, chiedo l'aiuto dal pubblico. Convinci qualcuno a tirare con l'arco. Convinci un compound a tirare con l'olimpico. Questa è brutta. Potresti andare alle Olimpiadi anche tu. Ah beh, perché dovrebbe tirare con il compound, scusa? È impossibile. Convinci uno specialista del campagna a tirare targa. Anche questo. È più divertente. Almeno le misure sono sempre le stesse. Abbiamo visto dei compagni di squadra tirare a petto nudo. Chi ha il fisico migliore? Wow! Beh, attualmente è Nespoli che ha perso un bel po' di chili e un pochino più... Però se la gioca bene con Mandia che è un pochino più spaccato. Max. Mauro, perché è lì? Chi è il più simpatico del gruppo azzurro? Mi trovo bene con tutti, non saprei proprio. Bah, tutti. Non ce n'è uno più, uno meno. Sono tutti simpatici. Non si può dire, se no poi me li metto contro gli altri. Se dico Rio de Janeiro, cosa rispondi? Ci mancano tre anni e mezzo. Olimpiadi. Eh, vorrei esserci e soprattutto portarmi a casa una medaglia che c'è mancata a Pechino. Indovina i sei titolari di Rio 2016. Non lo voglio neanche fare, guarda. Poi vinco qualcosa? Allora, io, Pia e Elena, visto che siamo qua insieme, e anche dei maschi, in questo momento direi Max, Mauro e Alberto. Allora, nel femminile, vabbè io, Natalia, e sulla terza, oddio, vado d'accordo con tutte, però forse le più grosse soddisfazioni le ho prese con Pia, quindi Pia. Nel maschile, Mauro, un giovane, e riconfermo Gagliazza. E allora, vediamo se sei pronta a salire sul podio. Canta Cilino di Mameli. No, vi prego. Fratelli. Sono stonatissima. Fratelli. 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 Fratelli.